Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Io vi benedica e la Santa Vergine che potete. Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda, degli scritti di Maria Valtorta. Il titolo del paragrafo di questa sera si chiama Una lode potrà alimentare il suo orgoglio. Vi vedremo bene che cosa significa tutto questo. Sto vedendo un attimo se riesco a capire. Questa è la quattordicesima puntata di questo ciclo di catechesi. La volta scorsa abbiamo visto il punto un po' dolens della necessità della presenza di Giuda nel gruppo apostolico come dolorosa formazione, come lezione non solo per loro ma anche per tutti. Io adesso faccio un po' di pubblicità perché per una singolare di incidenza questa catechesi che doveva in un momento si tiene lunedì per ragioni dovute ai miei impegni oggi si è trovato il martedì e nel nuovo calendario il 14 maggio è la festa di San Mattia Apostolo. San Mattia Apostolo evidentemente come ho spiegato nella Omeria di questa mattina ha sullo sfondo il mistero di Giuda perché San Mattia non sarebbe stato aggregato ai 12 se non ci fosse stata questa drammatica defezione nel collegio apostolico perché da 12 erano diventati 11 perché Giuda non soltanto ha tradito ma poi ha pensato nella sua testa ormai insatanassata espressione cara agli scritti di Maria Valtorto di andarsi a impiccare e giustiziarsi da solo. Una tragedia che dicevo appunto nella Omeria di questa mattina fa capire due cose. Uno che i disegni di Dio quelli che lui predetermina in maniera indefettibile si compiono nonostante le inadeguatesse degli uomini. Uno dei dodici sputa sopra e spreca le grazie e un altro farà le cose a posto tuo come te anzi meglio di te e così è stato. Questo è sempre molto importante questo qui perché sapete che come si dice anche nei proverbi popolari alle buone e sante cause tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Se qualcuno come dire a causa della sua stoltezza butta e spreca le grazie la pagherà lui il nostro signore ha i piani di riserva il piano B, il piano C, il piano D, il piano E quindi perché non è che si lascia. È vero che per un decreto della sua volontà vuole non vuole fare le cose senza di noi e senza la nostra libertà e cooperazione ma non è che non può farle, non vuole farle senza di noi e chiaramente ha questa sua volontà che ha una evidente nobilissima ragione d'essere lui si attiene però certamente non si lascia frustrare nei suoi santi disegni dalla nostra tabbenagine però c'è anche il rovescio della medaglia cioè Giuda se ne sta sprofondendo dall'inferno d'accordo quindi Giuda è come vedremo in quest'opera siamo arrivati più o meno a un settimo scarso anzi a un decimo della sua portata complessiva questo è uno che è veramente ha fatto di tutto per dannarsi e ci ha riuscito ma come sappiamo Gesù ha dato l'opera uno dei motivi principali anche il motivo per cui stiamo impiegando del tempo vuole ad ascoltare io a parlare leggere a commentare fondamentalmente uno dei motivi per cui Gesù ha dato l'opera è proprio riflettere sulla figura di Giuda perché Giuda non è un folle scriteriato fuori del mondo che si è campato adesso è morto fine del problema anche no non è così perché Giuda è sempre vivo purtroppo e ce ne sono una montagna di Giuda quindi per ascoltare una come dire una esposizione sintetica ripeto basta ascoltare nomine di questa mattina basta che si cercano nomine del 14 maggio del 14 maggio 2024 e si sente quello che ho detto al riguardo ora veniamo al tema di oggi che comincerei a leggere faccio sempre un po' di introduzione non tanto perché ascolta podcast e video indifferita quanto per chi segue la diretta che ciò esperienza mi insegna che ci vogliono sempre un 5 10 minuti perché per cui i collegamenti diciamo così delle persone che amano seguire le dirette si 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 compiano veniamo adesso al tema di oggi il paragrafo si chiama una lode potrà alimentare il suo orgoglio e andiamo a leggere Gesù e con simone in gerusalemme vendono la folla di venditore di zucchini che pare una processione per la via e mentre lo fanno Gesù dice saliamo al tempio prima di andare al gezzemani pregheremo il padre nella sua casa solo quello maestro solo quello non posso trattenermi domani all'alba vi è il convegno alla porta dei pesci e se la folla insiste come posso essere libero di andarvi voglio vedere gli altri pastori li spargo veri pastori per la palestina perché chiamino raccolta le pecore e il padrone del gregge sia conosciuto almeno di nome di modo che quando quel nome io lo dica esse sappiano che io che sono io il padrone del gregge e vengano a me per avere carezze è dolce avere un padrone come te le pecore ti ameranno le pecore ma non i capri ecco io parei un primo una prima breve sosta con questa espressione appunto no le pecore ti ameranno ma non i capri qui chiaramente sta parlando qualche discepolo qualche apostolo non si sa chi è perché non si non si capisce si capisce dal paragrafo seguente continuando a parlare con simone quindi interlocutore è sempre simone lo zero da stiamo imparando a conoscere un po la figura molto differente da giuda di simone lo lo zero da noi abbiamo visto quanti dialoghi fa con gesù quanta come dire quanta ascendente anche avevano un uomo molto profondo molto intelligente e molto credente anche molto acuto nuovo maturo bruttarello molto diceva al torta purtroppo nell'esteriore un po per ragioni dipendenti da qualità innate un po da gap difetti acquisiti per la brutta malattia di quella stato vittima però un uomo molto bello interiormente come lo stiamo imparando a conoscere no e qui dice molto bene le pecore non i capri è gesù che nel mangelo fa questa immagine lui chiama i suoi discepoli le mie pecore e che significa essere pecore di gesù perché usa questa immagine e perché via da me ma porra le pecore alla destra giudizio universale e i capri alla sinistra sapete che peraltro anpassam il caprone è uno dei chiari simboli demoniaci nel bafometto c'è proprio il caprone inciso sono alcuni pazzi furiosi per non dire proprio inqualificabilmente fuori di testa che si a fare a tatuare il caprone già i tatuaggi no comment ma poco il caprone è proprio un atto di consagrazione a satana chi fa queste cose qui comunque vabbè caprone per antonomasia il nemico di dio sappiamo benissimo che i capri hanno le corne e sono ribelli mentre la pecore è docile fondamentalmente i capri sono battitori liberi che si danno per conto su ora e le pecore vanno insieme non il greggio quindi cominciamo a pensare l'umiltà la lucidità l'unità la comunione la carità quindi le caratteristiche dei veri discepoli di di gesù no vorrei sottolineare anche questa dimensione della carità dell'unità allora questa è una cosa che va ricercata io vi dico la sincerissima verità l'esperienza personale soffro molto tanto nel vedere molta disunità e proprio a volte divisione più che disunità anche tra quelli nell'attuale contesto ecclesiale che sotto certi punti di vista almeno per quanto riguarda il mio parere personale sono schierati dalla parte giusta nel senso che cercano di portare avanti la cosiddetta tradizione con la maiuscola quindi cioè custodire il depositum fidei ciò che la chiesa è sempre stata sempre insegnata contro le derive oggi ormai ultra diffuse moderniste attenzione che l'antimodernismo è stato un altro dei motivi per cui il signor anzi il primo ha dato l'opera di maria valtorta la propottata per dare gli elementi per combattere e combattere risolutamente i modernisti questo l'ha fatto negli anni 40 l'umani generis questo bisogna fare un pochino di cultura e l'umani generis è stato l'ultimo tentativo blando molto più blando rispetto alla enciclica di alle civiche di pio decimo di san pio decimo all'inizio del novecento adesso ricordo la lamentabilis ma non mi viene in mente incredibile enciclica di condanna del modernismo di di san pio decimo veramente incredibile la pascendi dovrebbe essersi la pascendi del 50 è l'umani generis di pio dodicesimo che fu appunto l'ultimo tentativo di opporre un baluardo alla cosiddetta nuvelte rugi che era la quintessenza del modernismo che purtroppo poi è imperversato sia nel concilio vaticano secondo che soprattutto nel post concilio lì c'erano state sì ancora delle tenute ma come sempre accade delle piccole come dire delle piccolissime condiscendenze che poi si parte sempre così con la piccolissima condiscendenza e poi la piccola condiscendenza si aprono le righe di fatto purtroppo dopo il 1950 anche per le condizioni di salute gradualmente peggioranti di pio dodicesimo c'è stato proprio questa apertura sono cominciate le prime riforme liturgiche della famosa settimana santa entorno al 1954 quindi organizzate da annibale bugnini e compagnia cantante insomma vabbè poi questi sono altri discorsi da fare in altri in altre in altre sedi no però ecco appunto perché ho fatto questo discorso fa male vedere che all'interno degli antimodernisti diciamo così chiamiamoli così per 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 farci capire ma ci sta veramente una un arcipelago veramente un arcipelago cioè una serie di isolette o di isolotti alcuni un po più grandi altri che sono proprio isolotti io sono qui sul lago pontino insomma non sapete stanno po po ponza palmarola e ventotene ponza e per il modello e ventotene sono due isole isolotti ma almeno abitati palmarola è proprio un pezzo di roccia che sgorga dalla terra non c'è nessuno è soltanto un mare stupendo intorno se non fa il bagno e basta sapeste quante palmarole che ci stanno anche in mezzo a cioè è una tristezza enorme perché sapete che quando non c'è unità non c'è una possibilità di azione comune sapete che è un motto antichissimo risalente addirittura all'impero romano quello del divide ed impera cioè la cosa fondamentale per continuare a portare avanti un programma di un certo tipo è che tu crei la frammentazione la divisione tra l'opposizione d'accordo perché così diventano una serie di realtà inconsistenti io non parlo mai di politica carità di dio chi o me ne scampi e liberi però come registrazione di un fatto si pensi quando sono state le ultime azioni politiche quelle post covid dove come dire il fronte post come dire il fronte anti narrazione pandemica di un certo genere si era frammentato in mi ricordo quanti erano quindici o venti partitini e che cosa è successo rasi al suolo chiaramente nessuno è entrato in parlamento cioè riflettiamo cioè questo cioè non si può diventare capri pur con le buone intenzioni d'accordo non si deve cioè si deve sempre mantenere lo spirito dell'essere in senso buono gregge cioè trovare l'unità attorno al nostro maestro signore che vogliamo servire a cui vogliamo dare gloria non si può andare avanti a fare i battitori liberi agire ognuno per conto suo pazzirsi e farsi le proprie cioè è una cosa che non serve quasi a niente si perdoni se ho fatto questa piccola digressione ma cosa un po personale però quando ho letto le pecore e non i capri perché anche giuda fondamentalmente era un battitore libero è tra le altre cose era anche un peccatore era un superbo era un arrogante era uno che si era fatto una certa idea messianica completamente sballata ma era fondamentalmente un battitore libero lo vedremo l'abbiamo già intravisto ma lo vedremo ogni tanto si era andato dal gruppo apostolico si era andato a fargli affari suoi cioè i suoi intrallazzi le sue amicizie le sue cose no quindi questo è espressione di uno spirito certamente non buono allora continuando a parlare con simone gesù dice di voler andare a nazareth e poi a cafarno per far fedici simon pietro e gli altri che soffrono di tanta sua assenza e per poter ammaestrare discepoli non potendo predicare alla folla che per il gran caldo non sosta nelle piazze nelle vie e gli desidera tornare nella dolce carilea che descrive insieme con la sua nazareth dove ha un fiore la madre sua a in cui rivolge lodi sublimi peccato che qui chiaramente l'argomento è giuda e quindi viene omessa viene un po saltata il discorso delle lodi a maria se posso fare un'altra pubblicità questo discorso è contenuto ecco nel libro di prossima pubblica pubblicazione non lo so perché sto correggendo sto revisionando le le bozze questa è la seconda revisione si chiama le virtù di maria un piccolo omaggio fatto alla madonna un libro sulle dieci virtù principali della madonna e sulla base della dottrina di san lujo maria di vinano non forte e che raccoglie avuto avanti una serie di fonti tra cui gli scritti anche di maria valta orta non solo quelli che fanno vedere come queste virtù di maria erano da lei vissute al nostro esempio e la nostra edificazione e il messaggio proprio quel quella con l'espressione dove gesù dice qui a nazareth c'è un fiore e quel fiore si chiama maria è un passaggio veramente commovente bellissimo dove gesù stesso tesse delle meravigliose lodi della sua santissima madre no è citato nel testo che sto curando spero oggi è 15 di maggio prima della fine di maggio di poterlo dichiarare insomma online è disponibile nelle gli store online e nelle librerie cartacee io la prima bozza l'ho mandata la seconda sto a metà della revisione se si sbrigano a mandarmi il riscontro della della prima dovremmo farcela prima della fine di maggio sono entrati nel tempio e camminano per il primo ripiano passano per un portico diretti ad un secondo ripiano maestro guarda la giuda fra quel crocchio di gente ci sono anche fare i sessi negristi io vado a sentire che dice mi lasci vai dice gesù ti attenderò presso il gran portico simone va all'esto e si mette in modo da udire ma da non essere visto giuda parla con grande convinzione e qui ci sono persone che voi tutti conoscete rispettate che possono dire chi io ero ebbene io vi dico che egli mi ha mutato il primo redento sono io molti fra voi venerano il battista egli pure lo venera e lo chiama il santo pari ad elia per missione ma ancora più grande di elia ora se battista è tale costui che il battista chiama l'agnello di dio e sulla sua santità giura di averlo visto incoronare dal fuoco dello spirito di dio mentre una voce del cielo lo proclamava figlio il diletto di dio che va ascoltato non può essere che il messia lo è io ve lo giuro non sono un rozzo lo è io l'ho visto nelle opere ne ho dito la parola e vi dico è lui il messia il miracolo lo serve come uno schiavo il padrone malattie sventure cadono come cose morte e viene gioia e salute e i cuori si mutano ancor più dei corpi lo vedete da me non avete malati non pene da soccorrere se le avete venite domani all'alba alla porta dei pesci egli vi sarà e vi farà felici intanto ecco in suo nome ai poveri io do questo soccorso e giuda distribuisce delle monete a due storpi e a tre ciechi e per ultimo forse una vecchietta ad accettare le ultime monete poi congetta la folla e resta con giuseppe d'arimatea nicodemo e altri te che non conosco a ora sto bene esclama giuda non ho più nulla e sono come egli vuole in verità non ti riconosco più credevo fosse uno scherzo ma vedo che fai sul serio esclama giuseppe questo giuseppe d'arimatea il saggio e savio giuseppe d'arimatea sul serio o io per il primo non mi riconosco sono ancora una belva immonda rispetto a lui ma già sono molto mutato e non apparterrai più al tempio chiede uno degli a me sconosciuti o no sono del cristo chi lo avvicina a meno che non sia un aspide non può chiamarlo e non desidera più che lui e non verrà più qui chiede nicodemo certo che verrà ma non ora vorrei udirlo ha già parlato in questo luogo nicodemo ribatte giuda lo so ma io ero con gamaliele lo vidi ma non mi fermai questo era nicodemo ovviamente che disse gamaliele nicodemo risposta disse qualche nuovo profeta non altro disse giuda riprende e tu non gli dicesti quello che ti dissi giuseppe tu gli sei amico lo dissi ma gamaliele dispose abbiamo già il battista e secondo le dottrine degli iscrivi almeno cento anni devono essere tra questo e quello per preparare il popolo alla venuta del re io dico che ce ne vogliono meno ha soggiunto perché il tempo è compiuto ormai e ha finito però io non posso ammettere che il messia si manifesti così un giorno ho creduto iniziasse la manifestazione messianica perché il suo primo baglione era veramente lampo celeste ma poi un grande silenzio si è fatto e io penso di essermi sbagliato devo fare una sosta qui per far spiegare e far comprendere qual è questo bagliore gesù fa riferimento scusate gamaliere era presente all'episodio dello smarrimento di gesù fra i dottori del tempio cioè quando lui volontariamente sottraendosi alla vigilanza dei genitori si fermò dodicenne nel tempio a predicare fra scribi farisei e dottori della legge c'era gamaliere sentì quel ragazzino parlare e sentì anche promettere quel segno ecco che avrebbe dato e perché tutti lo avessero riconosciuto come messie e questa è una cosa che aveva molto impressionato e poi come sappiamo gesù è sparito perché dopo quell'episodio è rimasto per altri 18 anni in vita nascosta quindi nessuno ha più udito visto e parlare di voi certo adesso si era ripresentato ma le modalità ecco qui di manifestazione lasciavano per presso gamaliele poi c'erano addirittura questi rabbini che si erano messi in testa vedete per le loro peculiari letture che tra la manifestazione del battista quindi il nuovo elia profetizzato dalle scritture e quella del messia doveva passare cent'anni in base a cosa almeno a me non è dato di comprendere fortuna che gamaliere un po' intelligente secondo me il tempo il tempo è di meno anzi siamo quasi prossimi però non può essere così attenzione a questo non può essere così ogni tanto mi fermo sembra questa una frasetta innocua ma mica innocua sapete quanta gente fa fatica perché stigmatizza ti pare che dio passa attraverso questa situazione ti pare che dio parla attraverso questo soggetto attraverso questo personaggio allora noi figlioli miei cari dobbiamo avere una faccio toc toc sulla mia testolina scevra da ospiti di tipo estetico capito quindi suona meglio bisogna avere un pochino di testa aperta e di sale in zucca che siamo noi per mettere a dio delle regole ah sì io ti pure ascolto io mi pure apro però tu devi agire in questo modo cioè devi manifestarti in questo modo amici mi dico subito a chi fa così se lo proprio scorda di intercettare l'altissimo perché le sue vie non sono le nostre i suoi pensieri non sono i nostri pensieri cioè tutta la vicenda anche umana dice ma vogliamo provare un attimo ogni tanto perché cioè noi celebriamo l'anno liturgico il natale la pasqua spero che molti di noi diciamo rosario tutti i giorni così questi misteri ci sono continuamente riproposti alla nostra attenzione no ma rimeditiamo un po ma ti pare una cosa normale no scusate che dio si fa uomo e non lo sa nessuno se non una vergine quattordicenne di un paesino sconosciuto sulle carte geografiche del tempo che manco sapevano che esistesse tutto normale sì è vero che c'erano le profezie la vergine concepirà e partorrerà un figlio no? ma uno poteva anche immaginare una vergine di quelle che ne so tipo la regina Esther che non era vergine però insomma era una persona pochino rinomata importante no? no zero ma dopo di che ma vogliamo pensare al natale? ma è normale che che dio fatto uomo nasce in una stalla normale in una stalla sconosciuto nessuno sapeva niente chi l'ha saputo? quattro poveri disgraziati dei pastori che gli hanno annunciato gli angeli uno sì però hanno saputo i magi attraverso un prodigio straordinario ma appena la notizia è giunta qualcuno dei grandi religiosi o politici di Israele è successo al finimondo ma ci rendiamo conto nascere in una stalla no purtroppo non ci rendiamo conto perché noi non ci renderemo mai conto di chi è di che significa essere dio noi non possiamo capire perfettamente queste cose perché noi non abbiamo adesso una percezione di chi era il verbo prima di fare di farsi carne capito? cioè della gloria infinita della Santissima Trinità e di come gli angeli spostrati lo adoravano e di come nessuno può resistere manca un cenno della sua volontà e questo si va a manifestare cioè in un bambino che vagisce e che sta a crevasse di freddo dentro un po' di fieno scaldato dal fiato di due animali ragionevoli sì poi c'è la profezia di Isaia certamente proprio i primi versetti di Isaia il bue conosce la propria greppia e l'asino la dimora del padrone ma Israele non conosce e il mio povero non comprende certo perché Dio è ma capite no? anche la manifestazione di di Gesù questo se ne esce cioè noi dobbiamo cercare di calarci nella mentalità che Gamalieri non è uno stupido Gamalieri dopo la risurrezione l'ascensione ci è arrivato piano 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 perché da israelita è impastato di di israelitismo se si può dire così come era ci ha messo del tempo però aveva la buona volontà aveva la buona coscienza quindi piano piano ci è arrivato ma a quei tempi cioè tu non ti potevi presentare neanche come rabbi se non avevi Alessio ti diceva tu sei rabbi chi è stato il tuo maestro? a quale scuola ti sei formato? a quale scuola sarò amato Gesù? a scuola di San Giuseppe dentro la fare Gnameria cioè capite? ecco perché dice io non posso ma che stiamo scherzando? cioè adesso non voglio fare l'avvocato di difensore di Gamalieri però ogni tanto bisogna fare anche un pochino l'avvocato del diavolo per capire cioè che queste cose non è che sono morte con Gamalieri guardate che queste cose vivono anche con noi perché le modalità di manifestazione dell'altissimo sono sempre le stesse sono tali da confondere l'ha detto Giulio nel Vangelo sapiente gli intelligentoni e da essere accessibili solo ai piccoli a chi si fa piccolo profondamente da un punto di vista anche intellettuale chi rinuncia ai propri schemi mentali cioè a pensare che Dio debba fare le cose secondo la testa sua non lo fa mai guardate nel corso della storia i personaggi tra poco noi andremo a Lourdes se Dio vuole ci tornerò molto molto volentieri sperando che abbiano riaperto quelle benedette vasche lo voglio vivamente sperare a Lourdes c'era una c'era una ragazzina analfabeta a Fatima c'erano tre ragazzine analfabeti 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 Santa Caterina da Siena era analfabeta e ha scritto il diavolo della divina provvidenza sotto dittatura ma analfabeta era quindi cioè Dio fa sempre così quindi se tu entri in quest'ottica sta attento che tu nostro signore tu non lo vedi mai tu non lo vedi mai io da parro che lo posso io questo lo vedo da da vent'anni racconto sempre le stesse cose cioè nelle parrocchie ci sono alcuni personaggi che sono i praticanti oppure quelli che oggi chiamano i cattolici adulti che ne so gente che ha fatto ha studiato scienze religiose ah guarda Dio ce ne scampia i libri oppure insegna religione quindi ho insegnato religione ho fatto i corsi di oppure qualche responsabile di qualche movimento ecclesiano o cose di questo genere tutta l'altra gente che si pensa di essere attrezzata di sapere bene le cose molte volte sono infarciti come dire di 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 modernismo di bassa lega cioè del del nulla del qualunquismo dilagante oggi ecclesiano le cose la comunità l'assemblea la mensa stupidaggini che hanno che hanno imparato come 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 aria fritta a pappagallo no da qualche nella della misura scarsina che si fa nei corsi di di teologia negli istituti di scienze religiose nelle scuole di teologia di teologia di Cesare scarsina questi pochi pensano di sapere tutti se ci venisse san francesco d'assisi lo prenderebbero in giro ma chi è questo qui questo adesso chiamiamo 113 lo facciamo in gabbia va in giro vestito con sacco addosso sta scalza non c'ha mai un paio di sandali sta tutto il giorno a piangere ma che se piangere direse che il cristianesimo è gioia il cristianesimo è gioia dobbiamo far il voto della gioia quello sta avuto il giorno a piangere è diventato cieco a forza di piangere sta gente è fatta così non c'è nessuna veramente guarda io lo dico con tristezza perché a me mi prende un po' la tristezza non c'è nessuna possibilità fino a quando la grazia non gli tocchi in qualche modo il cuore tu puoi predicargli il Vangelo in cieco slovacco d'accordo se sei capace profuro e vai gli miracoli davanti ma questa gente non si converte non si converte hanno i loro schemi mentali untouchable capito intoccabili è un guaio per questo che mi sto fermando e attenzione alcuni di questi alcuni ma alcuni non sono cattivi cioè non sarebbero cattivi ma sono imprigionati e devono fare questo gesto di umiltà intellettuale se no non escono Gamaliere era momentaneamente imprigionato ma la cosa buona ve l'ho già detto è che ci aveva un po' di buona volontà quindi pur vedete che dice io non riesco ad ammettere no non posso ammettere che il messia si manifesti così al momento però però si vede poi perché compare tante volte questo travaglio che c'era interiormente quando vedeva Gesù Maria Voltorta è bravissima dice che stava in disparte si metteva ste mani nella barba si torturava la barba l'atteggiamento proprio di chi di chi dice ma non ce ne dico però questo che dice no però non può essere quindi questo travaglio interiore che c'aveva e che poi l'ha portato alla conversione ma viva Dio magari però certe volte è proprio un guaio comunque Giuda ma dopo dobbiamo fare un commento hai visto Giuda Giuda di oggi bravo un santo Giuda di oggi sembra sembra un santo io sono cambiato lui è il Messia non abbiate dubbi fa i miracoli c'ha una parola che è uno spettacolo Giuda che dà tutti quanti i soldi ai poveri fino all'ultimo centesimo ha finito come mi sento bene perché insomma Gesù Gesù questo era un po' San Francesco diciamo c'ha avuto un po' l'ispirazione Gesù gli sono passati i fiumi di soldi c'era di scrittima la torta è proprio fiumi ma lui faceva proprio le partite di giro il canale e poi lui dava sempre fino all'ultimo spiccio tutti diceva ma teniamoci 10 euro per noi per mangiare sempre niente su zero pulire tutto d'accordo quindi qualcuno ogni tanto protestava però c'è che è intanto da protestare con il nostro signore quindi siccome Giuda lo sapete oggi ho fatto come lui ci mancano una vita più in tasca fantastico no com'è che faceva così ne parliamo dopo finiamo di leggere il paragrafo Giuda dice prova a parlarne ancora se Gamaliere fosse con noi e voi con lui esorta a Giuseppe Tarimatea no se parlaci ancora Gamaliere dice se Gamaliere fosse con noi e voi con lui dice quindi se facciamo una bella cricca cioè ci sto io che ero nel tempio poi c'è Giuseppe Tarimatea il personaggio poi c'è Nicodemo poi c'è Gamaliere insomma abbiamo fatto già insomma un bel gruppetto bello autorevole no dice non vi ci consiglio obietta uno dei tre sconosciuti il Sinedrio è potente ed Anna lo regge con astuzia e avidità se il tuo Messia vuole vivere io gli consiglio di rimanere oscuro a meno che non si imponga con la forza ma allora c'è Roma se il Sinedrio lo udisse dice Giuda si convertirebbe a Cristo e qui anche qui c'è una battuta molto aspro molto amara e attualizzabile perché nel Sinedrio c'erano le autorità religiose del tempo c'era Sommo Sacerdote degli anziani mo signori meccari non voglio esagerare ma mutatis mutandis secondo voi a chi assomiglia al Sinedrio il fior fiore dell'autorità religiose consiglieri stretti del Sommo Sacerdote ve lo devo spiegare? l'avete capito o ve lo devo spiegare? ditemi voi e questi dicono adesso io non so buono adesso non riesco a fare tanto l'attore ridono quindi fanno ah 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 adesso non so buono a farlo in diretta insomma streaming no? ridono i tre sconosciuti si fanno una bella risata quando Giuda dice così no? Giuda ti credevamo mutato ma ancora intelligente brutta cosa che dicono se è vero quello che tu dici di lui ma come puoi pensare che il Sinedrio lo segua brutta cosa bruttissima le autorità religiose del tempo se è vero quello che tu dici di lui come puoi pensare che il Sinedrio lo segue quindi lo vedete perché il Coelet scrive non c'è niente di nuovo sotto il sole non c'è niente di nuovo sotto il sole c'erano Giuseppe Dari Matteo e Nicodemo quindi una minoranza che è l'eccezione che conferma la regola ma la maggioranza era corrotta Gesù Gesù gliela ha cantate all'inizio ha cominciato diciamo così con un fare un po' tranquillo quindi calitatevole rispettoso perché ha provato a cercare di toccargli le corde con le buone ma dopo alla fine si è fatti i nemici perché gliela ha cantate e gliela ha cantate in alcune circostanze serpenti razza di vipere noi non possiamo fare come Gesù mi raccomando però gliela ha detto serpenti razza di vipere mica vorremmo pensare che Gesù ha fatto i leccati gliela ha detto però serpenti razza di vipere quindi se è vero quello che tu dici di lui come puoi pensare che il sinetro lo segue vieni vieni Giuseppe è meglio per tutti Dio ti protegga Giuda ne hai bisogno e se ne vanno Dio ti protegga ne hai bisogno quindi sta attento che se cominci a fare così ti allontani dal tempio e ti metti appresso a questo passerai guai con le autorità religiose del tuo tempo questo gli stanno dicendo Giuda resta solo col solo Nicodemo Simone si squaglia e vada al maestro e sentite adesso che dice maestro io mi accuso di aver peccato di calunnia con la parola e col cuore quell'uomo mi disorienta lo credevo quasi un tuo nemico e l'ho udito parlare di te in tal modo che pochi fra noi lo fanno specie qui dove l'odio potrebbe sopprimere prima il discepolo e poi il maestro e l'ho visto dare denaro ai poveri e cercare di convincere i sinedristi e Gesù sentite che risponde lo vedi Simone sono contento che tu l'abbia visto in tal modo e in tal momento lo direi anche agli altri quando lo accuseranno ve ne diciamo il Signore per questa gioia che mi dai per la tua nesta nel dire ho peccato e per l'opera del discepolo che credevi malvagio non lo è pregano a lungo poi escono non ti ha visto? chiede Gesù a Simone no ne sono sicuro e lui non gli dire nulla è un'anima molto malata una lode sarebbe simile a cibo dato a un convalescente di gran febbre di stomaco lo farebbe peggiorare perché si glorierebbe del sapersi notato e dove entra l'orgoglio tace erodici Simone lo tranquillizza dove andiamo? da Giovanni sarà in quest'ora calda la casa dell'uliveto vanno lesti cercando ombra per le vie tutte di fuoco del gran sole superano il soborgo polveroso valicano la porta delle mura escono nella bacinante campagna e da questa negli olivi dagli olivi alla casa io che sono stato in terra santa d'estate ad agosto quando dice queste cose ti ricordo bene insomma è terribile nella cucina trovano Giovanni che dice di essersi sentito come un agnello che ha smattito il pastore e riferisce di aver parlato di Gesù a molti in specie ad una madre sventurata che ora spera di ottenere la guarigione della figlia malata di Tisi hai fatto bene dice Gesù e a sera andremo dai tuoi amici Giuda l'hai più visto? più maestro ma mi ha mandato cibi e denari che ho dato ai poveri e mi ha mandato a dire che li usassi pure perché erano suoi è vero Giovanni domani andiamo verso la Galilea ne sono lieto maestro penso a Simon Pietro chissà come ti attende passiamo anche da Nazareth anche e vi sostiamo in attesa di Pietro Andrei di tuo fratello Giacomo oh dice Giovanni restiamo in Galilea? vi restiamo per qualche tempo Giovanni ne è felice e sulla sua felicità cessa tutto allora questo episodio fa capire una cosa che anche nelle persone che apparentemente e neanche apparentemente poi diciamo che la conformazione di Giuda non è certamente delle migliori c'è la possibilità della conversione e ne vedremo tanti di questi episodi perché ogni tanto Giuda si sembra la dottor Jekyll e mister Hyde c'è un momento di ripresa all'improvviso e tu lo andai a sentire e la sentite Simone che dice io devo chiedere perdono l'ho sentito parlare a questo qui io l'ho giudicato io l'ho calunniato che significano questi episodi? sono molto importanti primo e questo non dobbiamo dimenticarlo mai lo dice anche Gesù dice vedi vedi perché in effetti un giudizio c'era comunque stato noi non possiamo mai giudicare la persona cioè non possiamo dire vabbè questo ormai è spacciato cioè questo è uno che è cattivo certo possiamo vedere dei fenomeni esterni e quindi farci un'idea che abbiamo il diritto e una volta che è il dovere di farcela delle persone ma non pronunciare sentenze definitive questo è spacciato questo è irrecuperabile questo è qua no perché non è vero fino a quando noi siamo in questa valle di lacrime è possibile il cambiamento è possibile la conversione è possibile il ritorno a Dio è possibile tornare sui suoi passi sui propri passi è possibile correggersi dai difetti punto secondo Giuda non era spacciato Giuda ha sempre conservato l'intelletto e la libera volontà lo prendono in giro si sei cambiato ma ti crediamo ancora intelligente Giuda non era uno stupido Giuda era intelligente però purtroppo l'intelligenza non lo dimentichiamo mai è una risorsa ma l'utilizzo di questa risorsa dipende dalla volontà purtroppo perché è la volontà che indirizza l'intelligenza vi faccio subito un esempio un po' feriale un boss della malavita ok secondo voi è uno stupido è stupido può diventare un boss della malavita essendo stupido insomma ragazzi la domanda è più che retorica Lucifero un tempo adesso Satana è stupido altra domanda retorica però sono malvagi un boss della malavita è una persona malvagia Lucifero è una persona malvagia un angelo ma anche gli angeli sono persone penso che sappiate no? sono persone umane sono persone sono puri spiriti ma sono persone cioè sostanze individue che hanno un'intelligenza è una libera volontà anche se sono puramente spirituali perché il problema è nella volontà quello che Giuda manca e che gli è sempre mancato è la buona volontà allora essendo una persona intelligente ogni tanto vedendo certe cose come dire rientrava in sé faceva qualche qualche considerazione si faceva qualche piccola domanda si dava delle risposte ovvie quindi logiche conseguenti a quello che viveva ma siccome non aveva la buona volontà questi erano fuochi di paglia momentane duravano tre giorni e poi era tutto finito questo è un altro grandissimo pericolo in ordine in ordine alla cammino verso la il conseguimento della meta della nostra fede che è la salvezza delle anime ricordiamo sempre che gli angeli hanno detto ai pastori pace in terra agli uomini di buona volontà io la voglio questa buona volontà che significa una cosa molto molto semplice quello che dice il termine stesso buona volontà cioè la volontà sinceramente diretta rivolta verso il bene quindi fermamente risoluta a non smuoversi da ciò che è buono per nessun motivo anche quando lo dovessi pagare quando si ha questo possiamo trovarci anche in pastogliati in situazioni di peccato o di errore o di tante cose ma presto o tardi ne usciremo fuori se questo non c'è è chiaro che il signore c'è avuto lo stesso Giuda ha avuto tutti quanti gli aiuti possibili dalla grazia ma che succede tu c'è un ritorno in te a orologeria a tempo perché dopo che tu hai fatto il ritorno in te poi però ricominciano a riemergere le tendenze le passioni Giuda era lussurioso Giuda era avario Giuda era l'amante del potere Giuda era superbo come li domini queste cose qui le domini con la volontà le domini con la volontà la gente dice ah ma io commeto gli atti impuri non ci riesco a non commettere ma che non ci riesci tu non vuoi non vuoi smettere non vuoi che non ci riesci certo ci vuole l'aiuto della grazia di Dio su questo non ci piove qui tu hai usato i mezzi di grazia ma i mezzi di grazia sono una delle tre cose necessarie per uscire dal peccato mortale perché sapete quali sono le altre due la ferma volontà di non più peccare e la fuga dalle occasioni sono due sono tutte e due atti della nostra volontà poi la grazia ci ci dà la forza di compiere perché siamo deboli un conto è dire sono debole ma tutto posso in colui che mi dà la forza dice San Paolo purtroppo tutto posso in colui che mi dà la forza quindi i fuochi di paglia di Giuda ci fanno capire uno che Dio fa di tutto per quanto sta in lui per salvare anche quelli che sa appartenere alla schiera degli inconvertibili uno due che c'è una possibilità anche per questi se solo lo vogliono tre che queste possibilità possono andare in fumo se non sono corroborate da una volontà buona perché senza la buona volontà non si va da nessuna parte mi si cade questo mi raccomando non dimentichiamolo mai bene sto guardando l'orologio penso che possa per oggi più che bastare ci aggiorniamo alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga laudentur Jeesus e Maria e